Ciao creativi! Oggi vi faccio vedere come lavoro sul mega stampo industriale di lettere e numeri che potete trovare sul sito di Reschimica Vado ad utilizzare la fil bianco Reschimica, la resina velocissima, rapporto 1 ad 1, la coloro leggermente di rosso per realizzare il primo stato delle mie lettere Andremo appunto a lavorare sul dritto, altrimenti le lettere verrebbero al contrario Ma tranquilli, perché possono venire lo stesso bombatine Potete mettere più resina, oppure, ecco guardate, questo è il risultato finale con il doppio strato al dritto Vuoi farla bombarla? Allora, fill crystal UV, pennellino di silicone Questo procedimento potete farlo anche con la resina trasparente normale, però l'UV è più veloce Ed eccole qui, belle bombatine lucidissime, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti Ciao!